Mobilia Megastore La vostra felicità ci sta a cuore Salve amici, sono da Mobilia Megastore nella storica sede di Caserta No, non sei a Caserta Come non sono a Caserta? Questa è la sede di Caserta di Mobilia Megastore No, ti dico di no Ho capito, adesso cambio canale Adesso sì Salve amici, sono da Mobilia Megastore nella nuova sede di Salerno Volete vederla? Seguitemi, scoprirete un mondo di straordinarie offerte per arredare casa Mobilia ha aperto un nuovo centro arredamenti a Salerno Una sede di 10.000 metri quadrati con più di 2.000 soluzioni da rego A prezzi ultra convenienti perché Mobilia acquista grande quantità di prodotti rispetto ad altri E riesce ad avere sconti esclusivi dai produttori Ma la gente che entra nella nuova sede cosa cerca? Sì, cerchiamo arredamento moderno Qualcosa di bello Spero qualcosa che mi serva per la casa al mare Allora, noi siamo venuti qui per comprare uno tameretto Diamo veniamo a curiosare Per mia figlia che si deve sposare Vi renderò un po' la vostra offerta buona La tuta attrezzata, la salò, tutto di tutto Vieni a vedere la convenienza di Mobilia Megastore Scopri la praticità delle nostre cucine Senti il calore dei nostri ambienti notte Guarda la bellezza dei nostri ambienti giorno Conta quanti colori hanno le nostre camerette Prova a rilassarti sui nostri divani Ammira la qualità dei nostri bagni E per pagare scoprite le tante possibilità di finanziamento che Mobilia vi offre Anche a tasso zero Mobilia chiude accordi con le più importanti finanziarie Per offrire il vero finanziamento a tasso zero Ma con più di 2000 soluzioni di arredo Trovare quella giusta sarà un problema? La Mobilia no Perché io e altri miei colleghi Siamo qui e vi aspettiamo per aiutarvi A scegliere una soluzione migliore per la vostra casa Ma allora non devo preoccuparmi di scegliere il colore del mio nuovo divano? Per un divano da mettere in cucina Consiglio uno sfoderabile lavabile Con un bel rivestimento fantasia Ogni nostro cliente da Mobilia Prova tutto quello che serve per arredare casa Una vasta scelta Una consulenza professionale Una grande qualità La confidenza del prezzo E uno straordinario servizio post vendita Mobilia vi segue sempre Prima, durante e dopo Perché ogni nostro cliente Deve essere completamente soddisfatto Del suo acquisto Ma quelli che hanno visitato oggi La nuova sede di Mobilia Megastore a Salerno Saranno soddisfatti? Mi ha lasciato tutta la zona della Caligaris Tantissimo Abbiamo visto la cameretta per i bambini Mi ha colpito la linea di Gianfranco Ballerini Che è qualcosa di stupefacente Interessante, molto bello Non siamo mai stati in un centro Mobilia Però sicuramente il centro è fatto bene Medica è venuta in modo che vuol combattere la concorrenza Carino, bello Adesso anch'io sono soddisfatta E quindi vi invito a visitare il nuovo centro Arredamenti Mobilia Megastore di Salerno Come fare per arrivarci? Uscita a Salerno Est della Tangenziale Oppure uscita a Ponte Cagnano dell'autostrada A3 Prendere direzione Salerno Qualità Convenienza Professionalità Al servizio del cliente Mobilia Megastore Vi aspetta tutti i giorni Anche la domenica a Caserta Sud In Salerno Est Grazie a tutti